Un ragazzo di 15 anni è stato investito da un treno in transito questa mattina intorno alle 8 nei pressi della stazione ferroviaria di Arcisate. Sul posto i soccorritori e le forze dell'ordine incredibilmente il ragazzo rimasto bloccato sotto il convoglio era ancora vivo. Avrebbe infatti riportato un forte trauma toracico che preoccupa i soccorritori e alcune ferite lacero contuse che non dovrebbero creare grandi problemi. Due vigili del fuoco l'hanno estratto da sotto il convoglio prima di affidarlo alle cure dei sanitari. La circolazione ferroviaria interrotta dopo l'incidente è poi ripresa regolarmente. Secondo le prime informazioni il macchinista del treno proveniente dalla Svizzera si sarebbe trovato sui binari all'improvviso il giovane vestito di bianco e avrebbe tentato una frenata disperata senza però riuscire ad arrestarsi in tempo per evitare l'impatto. La dinamica dell'incidente è ancora da accertare anche se alcuni testimoni concordano sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario. Tuttavia questo particolare è da confermare e per avere maggiori certezze i carabinieri stanno visionando le telecamere del circuito di videosorveglianza. Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Circolo di Varese dove è stato riscontrato anche un trauma cranico. Le sue condizioni sarebbero gravi ma stabili. Per ora è in prognosi riservata.